Per Siena Asa al Pusterlengo c'è Riccardo Casagrande, Riccardo una vittoria pesantissima perché giocata malino, anzi direi male per tre quarti dall'assigeco poi però nel finale è uscita la vostra grinta. Senza dubbio, partita faccio fatica a dire bella perché comunque non è stata bella, due buone squadre, in particolare Siena di coach Meccacci mi è piaciuto molto, ha giocato molto, ci ha messo in difficoltà con la loro zona. Siamo stati bravi, abbiamo un terzo quarto a rimanere lì, a cercare di andare in lunetta il più possibile, di recuperare i più punti possibili e alla fine l'abbiamo messa sulla bagarre e siamo riusciti a vincere. Senti, la sentivi particolarmente questa partita da ex o ti è venuto così bene perché hai veramente sbagliato poco e hai fatto tutte le cose giuste? Guarda, sinceramente la Nassina è sempre una cosa bellissima perché ho fatto un anno di poco bello, purtroppo il risultato finale sappiamo qual è stato, però non la sentivo più di tanto perché qua sono sceso in campo, ho sceso con la grinta, con la cattivera, comunque diciamo ah oh oh, però è sempre un piacere tornare in questa città perché ho amici, conoscenti, quindi senza dubbio è una bella cosa. Senti, vale doppio il successo qua per come è andata la partita? Direi di sì, direi di sì perché è stata una vittoria veramente importante, abbiamo un'altra gara fuori a Torino, sarà molto difficile però ci andiamo con l'umore veramente alto perché per come si erano messe le cose diciamo che comunque siamo riusciti a riprendere la partita e a vincere, quindi massimo l'umore alto e carica per Torino.